Ciao amici value investor, un paio di giorni fa Pindoduo ha rilasciato i dati per il secondo trimestre del 2024 e da allora le azioni sono crollate di oltre il 30%. Overreaction o c'è davvero qualcosa che non va in questa azienda? Ne parliamo in questo video. Dopo qualche giorno di vacanze torniamo a parlare di value investing e analisi fondamentale. In realtà nel circolo dei value investor il nostro gruppo discord non abbiamo mai smesso di farlo e abbiamo analizzato anche diverse aziende in questi giorni quindi se vi interessano questi argomenti potete unirvi alla nostra community in cambio di un piccolo contributo attraverso Patreon. Vi lascio il link in descrizione ma andiamo subito a Pindoduo che ha battuto le aspettative degli analisti sull'utile ma non quelle sul fatturato. Ma non può essere questo leggero miss il motivo del crollo del 30% del titolo perché i numeri della trimestrale sono stati eccezionali direi come al solito il fatturato è cresciuto dell'86% nessun'altra azienda cinese di grossa capitalizzazione è in grado di crescere in questo modo. È una crescita assurda. Il profitto operativo è cresciuto addirittura a tripla cifra più 156% a livello GAAP e più 139% a livello non GAAP. E lo stesso vale per il net income più 144% quello GAAP e più 125% quello non GAAP. Questi sono numeri incredibili che se rapportati alle valutazioni di questa azienda abbiamo praticamente la large cap growth più economica al mondo. Cioè questa è più cheap di Alibaba dal punto di vista dei multipli se prendiamo ad esempio il P-Ratio Forward o il Price to Free Cash Flow Forward. Quelli di Pindoduo sono più bassi di quelli di Alibaba e Alibaba è un'azienda che cresce molto più lentamente di Pindoduo. Quindi come mai questa reazione da parte del mercato? Beh, le parole del management sulle previsioni del futuro prossimo nella trimestrale non sono state molto positive. Parlano di molte sfide che li attendono e parlano di un potenziale declino della profittabilità in arrivo e aumento della competizione che porterà inevitabilmente ad un rallentamento delle vendite. Ok, ma nemmeno questo può essere il problema per giustificare un crollo di oltre il 30%. Cioè mettiamo che non cresca più dell'80% ma del 30% come revenue e mettiamo che i profitti non crescono più a tripla cifra ma di un 20-30% parliamo comunque di un'azienda con multipli a singola cifra valutata come se crescesse zero e con margini rasoterra quando invece abbiamo un margine di profitto netto superiore al 30%. Cioè è troppo cheap anche se consideriamo i rischi legati alla Cina perché è più economica dei competitor cinesi come Alibaba come detto ed è economica come JD a livello di multipli anche se a differenza di JD che ha una crescita a singola cifra Pindoduo cresce dell'80% e inoltre JD ha un net income a singola cifra come margine mentre JD ce l'ha superiore al 30%. Quindi c'è sicuramente qualcosa che non va che non ha niente a che fare con i fondamentali e sono le note paure e dubbi sulla veridicità dei bilanci e sull'etica del management ma sono dubbi che Pindoduo si porta dietro da tempo ormai. Come mai però? Solo dopo questa trimestrale il mercato ha deciso che l'azienda varia il 30% in meno. L'unico motivo che possa giustificare multipli per Pindoduo ormai più bassi di quelli di Alibaba e JD è che il mercato pensa che Pindoduo crescerà meno di Alibaba e JD in futuro cioè che Pindoduo perderà la sfida competitiva con gli altri player cinesi e a scatenare questo dubbio sono state le parole dette dal management di Pindoduo in conference call e nel report della trimestrale cioè se il mercato da 5 come price to free cash flow forward a Pindoduo vuol dire che pensa che avrà crescita 0 o quasi e per arrivare da 80% di crescita a 0% di crescita vuol dire che il mercato pensa che Pindoduo abbia 0 vantaggio competitivo e che prima o poi i concorrenti conquisteranno il suo castello cioè le porteranno via il mercato. Quindi penso che la narrativa sia è vero che il modello di business di Pindoduo il social commerce sia superiore a quello dei concorrenti ma che sia anche facilmente copiabile, replicabile dai concorrenti e infatti Alibaba sta copiando il modello di business di Pindoduo ma in più Alibaba ha anche la logistica di Sign Out quindi può garantire prezzi bassi ma anche un servizio di consegna migliore al cliente e più garanzie e la stessa cosa sta facendo JD infatti anche JD ha creato il suo marketplace dove le aziende possono vendere direttamente al consumatore e magari riuscirà anche a creare gli acquisti di gruppo sulla sua piattaforma come fa Pindoduo più persone comprano un articolo più si abbassa il prezzo e JD con la sua logistica sarebbe probabilmente anche in grado di consegnare porta a porta in tempi rapidi cosa che non può fare Pindoduo ed è probabile che molti merchants, le aziende che vendono su Pindoduo stiano vedendo che ci sono adesso alternative di livello a Pindoduo e stiano quindi decidendo di lasciare la piattaforma perché altrimenti non si spiegherebbe il fatto che il management di Pindoduo abbia programmato una riduzione significativa delle fee per alcuni merchants e hanno detto che continueranno a dare altri incentivi per trattenere i venditori sulla piattaforma in più sul fronte international commerce si sono aggiunti i timori per Timu che possa rallentare parecchio la sua crescita infatti una domanda di un analista uno dei pochissimi a presentarsi in conference call che penso nel giro di qualche trimestrale verranno disertate perché il management in pratica non risponde alle domande è che secondo alcuni dati sembra che le vendite e gli investimenti in alcuni paesi stiano diminuendo da parte di Timu quindi fa presente che Timu non stia più andando bene come un tempo e il management ha risposto che questo è dovuto non solo all'intensificarsi della competizione con Aliexpress penso principalmente ma anche con fattori esterni al business allora la verità è che su Timu si vende robaccia e una percentuale enorme dei clienti che compra su Timu vuole i soldi indietro infatti sono tantissimi i venditori che stanno protestando con manifestazioni sotto le sedi di Pinduoduo perché ormai stanno solo perdendo soldi a colpi di rimborsi in più aggiungeteci i dazzi che i paesi occidentali hanno intenzione di mettere sui prodotti degli e-commerce cinesi e il quadro è completo cioè questi dazzi possono essere davvero un grosso problema per Pinduoduo possono esserlo anche per Alibaba ma mentre Aliexpress rappresenta una porzione piccola del fatturato totale di Alibaba non è così per Timu di Pinduoduo che in teoria, dico in teoria perché non abbiamo dati ufficiali dall'azienda al supporto Timu dovrebbe rappresentare una fetta importante del fatturato totale di Pinduoduo quindi la situazione è in Cina la competizione per Pinduoduo si sta facendo intensa e metterà sotto pressione la crescita e i margini di Pinduoduo queste le parole del management e all'estero stesso discorso per Timu che è bravissima a prendere nuovi clienti regalando prodotti ad un euro ma visto le proteste dei venditori probabilmente non riesce a trattenerli poi questi clienti perché vende robaccia praticamente e queste sono le novità rispetto alle altre trimestrali di Pinduoduo che hanno portato il prezzo a crollare di oltre il 30% e i multipli a raggiungere i livelli mai visti prima e anche più bassi dei concorrenti cinesi nonostante Pinduoduo cresca molto di più dei concorrenti cinesi al momento e questa novità del possibile deterioramento dei fondamentali di Pinduoduo si aggiunge all'ormai noto problema della veridicità dei bilanci e dell'etica del management che ormai il mercato conosce e il fatto che in questa conference call ci siano stati solo due analisti a fare domande Joyce Ju e Young Bay ci deve far riflettere molto è un segnale evidente che Wall Street ormai non è più interessata a cosa dice il management di Pinduoduo e sa anche che qualsiasi cosa dica sarà sempre molto vaga e non accompagnata da numeri a supporto e non verificabile perché nei report di Pinduoduo sono riportati solo i dati essenziali è una paginetta il report dei loro trimestrali purtroppo il management di Pinduoduo sta facendo di tutto per non essere credibile il founder ha lasciato l'azienda nel momento migliore nel 2021 questo è molto strano il CFO ha lasciato l'azienda tempo fa e ora è un paio di anni circa che Pinduoduo non ha un CFO ufficiale trovatemi un'altra azienda al mondo con oltre 100 miliardi di capitalizzazione senza un CFO è assurdo e uno dei motivi potrebbe essere che nessuno vuole prendersi la responsabilità di firmare i bilanci di Pinduoduo nessuno è disposto ad andare in galera inoltre vengono omessi nei report dati fondamentali come la divisione delle vendite tra Timo e Pinduoduo in realtà la parola Timo non compare mai nei loro report non abbiamo dati sul GMV non abbiamo dati sugli utenti attivi non abbiamo dati sulla approfittabilità di Timo non abbiamo niente quindi a mio avviso Pinduoduo è una scommessa come sempre uno compra azioni Pinduoduo non per investirci perché come fai a capire dove sarà l'azienda tra 5-10 anni se non si sa niente di questa azienda nemmeno gli addetti ai lavori nemmeno gli analisti sanno niente figuriamoci noi piccoli investitori retail quindi uno compra le azioni di Pinduoduo scommettendo che se i dati sono manipolati può perdere un 50-70% se non lo sono magari si porta a casa una multibagger a questi prezzi così bassi ma a mio avviso ora con queste dichiarazioni del management sulle prospettive del business sulle sfide del business si aggiunge un altro rischio che rende la scommessa molto più difficile perché si aggiunge anche l'incognita competitività perché Pinduoduo potrebbe avere un basso vantaggio competitivo e quindi essere recuperata nei prossimi anni dalla concorrenza che negli ultimi anni si è attrezzata per controbattere la sua avanzata e secondo me queste dichiarazioni del management sono positive per Alibaba e JD perché Pinduoduo come detto sta abbassando in modo significativo le tariffe, le fee sui clienti chiave per evitare che vadano su altre piattaforme come Alibaba e JD e se lo stanno facendo adesso vuol dire che i concorrenti si sono riorganizzati e stanno sfruttando i loro punti di forza come la dimensione, il numero di utenti superiore, la logistica, l'ecosistema eccetera per togliere clienti a Pinduoduo e che i merchant ora vedono delle alternative importanti sul mercato quindi effettivamente la storia di Pinduoduo per i prossimi anni potrebbe essere molto diversa da quella degli ultimi anni ma ditemi nei commenti se ci avete investito in Pinduoduo o se avete intenzione di investirci un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide